Adesso comincia a girare sopra Cesenatico. Ricevuto. Molto bene, signori. Dobbiamo far impazzire i complottisti, sapete la missione. Sarà fatto. Adesso passatemi i poteri forti. Rimanere in attesa. Poteri forti in linea. Poteri forti qua Shadow, mi sentite? Porto è chiaro, aggiornatevi. Siamo sopra Cesenatico, cominceremo a girare a cazzo di cane. Molto bene. Esatto, cazzo. Era proprio questo quello che intendevo. Sapete che adoro questa merda. Passatemi i poteri forti. Vi sento. Datemi delle buone notizie. Abbiamo fatto. I complottisti impazziranno su TikTok.